buongiorno ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi voglio farvi conoscere la torcia frontale della true night modello trower pronuncia inglese madrilingua allora questa torcia frontale è molto potente a 1775 lumen arriva anche a distanza dichiarano addirittura circa 370 metri ora guarderemo per bene e costa 55 euro io spero di ottenere un codice di sconto così voi possibilmente riuscite a pagarla anche di meno di questa cifra se vi serve una torcia tattica buona ragazzi prendetela in considerazione perché true night produce delle ottime torce sia tattiche che frontali e questa può essere utilizzata in parte anche come torcia normale tenendola fra le mani non per forza in questo modo se fate escursioni eccetera eccetera lavorate comunque fate un lavoro che vi richiede di avere le mani libere potete dover illuminare la zona nella quale state lavorando una torcia frontale come questa che ha diverse funzioni torna utilissima 55 euro per comprare questa torcia non sono tanti effettivamente perché buona è fatta bene e anche impermeabile resiste a cadute da un metro e mezzo d'altezza si può immergere anche da accesa insomma diverse funzioni che la rendono interessante e se riesco a ottenere il codice sconto pagandola di meno è ancora meglio quindi guardiamo come è fatta guardiamo quali sono le sue funzioni tutte le particolarità eccetera iniziamo e allora ragazzi quindi questa è la torcia frontale che adesso guarderemo per bene questa è la scatolina con cui viene venduta all'interno troveremo alcuni o ring di ricambio un tappo per il collegamento della presa usb il cavo usb tipo c per poterla ricaricare e il manuale di istruzioni scritto in inglese tedesco giapponese e cinese allora la torcia è messa su questo supportino in gomma è possibile ovviamente girarla in base alle nostre esigenze questo è il tappo per accedere alla batteria e si tratta una batteria 3400 mAh da 3,6 volt modello 18.650 richiudetelo bene perché come vedete qua c'è questo o ring quindi chiudendo la diventa tenuta stagna si può immergere anche da accesa per poterla rimuovere basta spostare questa gomma in questo modo sfilarla avremo la nostra torcia che volendo possiamo utilizzare anche tenuta fra le mani questo è invece l'ingresso per poterla ricaricare chiudetelo bene perché altrimenti pure in questo caso comprometterete l'impermeabilità questa è la parte in cui abbiamo la nostra lente con una corona ok niente era un allarme di un caricabatterie allora stavo dicendo qua abbiamo la lente questa è la corona che sporge leggermente per proteggere lo stesso evitare in caso di caduta che possa graffiarsi eccetera e questo è il tastino di accensione tutto il corpo in alluminio aeronautico verniciato di colore nero molto resistente anche graffi ripeto alle cadute eccetera sull'impugnatura abbiamo questa zigrinatura antiscivolo che evita che possa accaderci da questa parte abbiamo questa finitura oltre che estetica anche una funzione serve dissipare il calore allora accendiamola vi faccio vedere tutte le varie funzioni se la torcia è spenta e noi manteniamo premuto questo tasto avremo la modalità più bassa chiamata file play che serve a vedere da vicino poter leggere fare segnali luminosi avere un punto di riferimento lasciandola per esempio distante da noi per poterci allontanare eventualmente raggiungerla senza consumare troppa batteria quindi spengo queste luci su di me in modo da farvi vedere quante luce mette davvero pochissima ma quella che serve appunto per essere notati perché questa torcia questa luce anche a distanza a buio in un bosco eccetera si vede benissimo e per poter leggere qualcosa al buio mi intende eccetera è molto utile invece spegnendola e premendolo una volta avremo l'ultima modalità che abbiamo utilizzato in questo caso una modalità alta ma non la più alta per poter variare questa luminosità dobbiamo mantenere premuto il tastino come vedete su tre step avremo le diverse modalità se vogliamo invece raggiungere la modalità turbo dobbiamo premere due volte questo tastino in qualunque condizione si trovi la torcia sia da spenta ad accesa con le varie modalità premendolo due volte avremo il massimo della sua luminosità quindi molto luminosa e arriva anche un bel po lontano invece premendo la tre volte avremo la modalità s o s quindi ci permette di fare questo segnale luminoso nel caso in cui speriamo di non ci sia bisogno riusciamo a farci notare anche da lontano con segnale specifico appunto per attirare l'attenzione far capire che abbiamo bisogno di aiuto qua sotto il tasto come avete visto si accende anche un led che in base al colore indica il livello di carica della batteria non viene fornito un caricabatterie ma si può caricare come tutte le torce tattiche con qualunque carica batteria anche quelli dei cellulari quindi una volta inserita questa parte come vedete si accende il led rosso perché adesso sta caricando e quando raggiungerà il livello massimo di carica diventerà di colore blu ovviamente potete utilizzare anche un cavo usb di un telefonino di qualunque altro tipo di dispositivo perché non è necessario appunto utilizzare quello che viene dato in dotazione ma si possono utilizzare tanti altri cavi sempre di tipo c ovviamente avendo la parte piatta possiamo utilizzarla anche appoggiata in questo modo per poter illuminare di fronte a noi oppure possiamo appoggiarla in quest'altro modo per illuminare verso l'alto eccetera perché abbiamo questa parte con questa forma geometrica che ci permette di orientarle in base alle nostre esigenze come ci viene più comodo e quindi rimarrà nella posizione che preferiamo ovviamente per quanto riguarda l'imbracatura per posizionarla sulla testa io già ne utilizzo altri due da diverso tempo e sinceramente non ho avuto mai alcun tipo di problema non hanno perso elasticità ancora sono in ottime condizioni e ci danno la possibilità nel caso in cui stiamo utilizzando per esempio un caschetto eccetera oppure in base alla misura della nostra testa di regolare la larghezza in modo che uno scivoli sia ben salda si può posizionare sia da destra che da sinistra come preferiamo io preferisco solitamente posizionarla da destra è una volta spinta all'interno in questo modo abbiamo la nostra torcia ben salda che rimarrà nella sua posizione e che possiamo decidere di orientare verso l'alto verso il basso in base ai nostri gusti nelle nostre esigenze e ciò che stiamo facendo diamo adesso un'occhiata anche al manuale di istruzioni che come vi dicevo non è in italiano ma guardiamo la parte scritta in inglese allora la modalità sos che abbiamo visto poco fa a 600 lumen e può durare fino a cinque ore la modalità firefly invece che quella più bassa la che serve per leggere da vicino eccetera a 04 lumen pochissimi e durerà ben 39 giorni accesa consecutivamente la modalità bassa invece avrà 62 lumen e durerà 48 ore la modalità media 258 lumene per 10 ore la modalità alta durerà invece sei minuti e mezzo con 735 lumen e poi si abbasserà 395 lumen per i rimanenti 240 minuti la modalità turbo invece dura solo 5 minuti a 1655 lumen che sono tantissimi non si utilizzano praticamente mai una luminosità così forte con una torcia tattica quasi addirittura sconsigliata e invece poi si abbasserà 373 lumen per altri 240 minuti la distanza massima raggiungibile 323 metri effettivamente sono troppi una torcia ripeto frontale si utilizza sulla fronte per vedere da vicino mentre si cammina evitare ostacoli e poco altro il può resistere a caduta un metro e mezzo all'altezza una protezione i pics 8 che gli permette di essere utilizzata anche da accesa sott'acqua e allora come sempre siamo al buio all'interno del mio laboratorio si vedono solamente i tre led di caricabatteria adesso accenderò la torcia in modalità firefly e ragazzi in modalità firefly praticamente non si vede quasi nulla semplicemente un leggero bagliore ma spegniamo questa modalità e andiamo alla modalità bassa in questo caso come vedete c'è un un anello un cerchio che ci permette di vedere oltre il punto centrale un po più luminoso e quindi possiamo vedere anche attorno a noi quando stiamo osservando qualcosa in questo caso io sto illuminando la mia targa del 100.000 iscritti ma riesco a vedere anche a sinistra per esempio la pinza per la saldatura eccetera andiamo all'altra modalità già in questo caso si vede molto meglio scusate l'ombra delle mie mani ma sto tenendo il telefono fra le mani e il telefono ovviamente fa un po di ombra quindi lo abbasso leggermente quindi come vedete con quest'altra modalità riusciamo ad avere un anello molto più pronunciato letteralmente alla zona centrale ancora più luminosa andiamo alla modalità alta ok in questo modo abbiamo tantissima luce si vede benissimo tutto quindi guardando anche verso l'alto questo anello riesce ad illuminare benissimo tutto il resto mettiamo la modalità turbo che secondo me è addirittura esagerata guardate sovraespone pure il telefonino non riesce a mettere nemmeno non riesce ad inquadrare bene il tutto perché troppo troppo luminosa guardiamo anche la modalità sos quindi molto luminosa anche questa ok per quanto riguarda l'interno insomma abbiamo visto che riesce ad illuminare bene ora siamo al buio e sto inquadrando il mio bancone voglio farvi vedere come ma la modalità firefly può essere utile per esempio ripeto all'interno di una tenda stiamo leggendo qualcosa eccetera oppure per fare segnali luminosi da vicino riusciamo ad inquadrare bene tutto quindi vedere le varie scritte eccetera molto comoda ripeto anche per fare segnali luminosi questa luce così piccola anche se sono solo 4 lumen se ci troviamo in un ambiente buio abbiamo bisogno di un punto di riferimento lasciandola posizionata in una zona poi riusciamo a raggiungere lo stesso punto perché appunto vediamo la luce e sappiamo dove ridirigerci allora ragazzi siamo in esterno non intenzione ovviamente di fare prove estreme però vi faccio vedere come con la modalità più bassa si veda bene quindi riusciamo ad avere questa luce centrale effettivamente in una circostanza come questa l'anello laterale fa un po di luce però non si permette di vedere benissimo lateralmente quindi c'è un po di ombre ovviamente del telefono che sto tenendo tra le mani avendo la torcia sulla fronte adesso aumento abbiamo la modalità successiva in questo caso dal telefono non si nota benissimo però riesco a vedere un pochettino oltre questo anello andiamo alla modalità più alta ok questa non è la modalità turbo e riusciamo a vedere sia al punto centrale ovviamente riusciamo a vedere anche questo anello laterale quindi la luce che si vede in questo modo nella parte perimetrale adesso guardate inquadriamo l'edificio in costruzione da una vita abbandonato al suo destino come vedete lo illumina benissimo quindi immaginiamo con la modalità turbo risposta leggermente di lato mettiamo doppio clic modalità turbo è impressionante riusciamo a vedere veramente a grande distanza sia in basso che la vicina insomma ovviamente l'anello in questo caso è molto molto più evidente quindi guardate riusciamo usarla davvero come torcia sia di profondità guardiamo anche di fronte ok posso adesso utilizzando la torcia in questione se mi vedete comunque riusciamo a vedere molto bene davvero una gamba e la torcia quindi anche per camminare in questo caso che diciamo la luminosità allora scusate ok in questo caso modalità intermedia riusciamo a vedere benissimo guarda la differenza se mette il telefonino davanti in questo caso con l'ombra e con la luce quindi comodo comoda scusate per riuscire a muoversi anche in zone buie quindi portiamo ancora un pochettino più da lontano questa è la modalità più bassa abbiamo detto mettiamo modalità turbo e riusciamo di illuminare benissimo tutto finestra tutto ciò che che c'è in questa struttura abbandonata a se stessa come ho detto ora e ora ho messo la torcia in modalità più bassa quindi modalità fair play sul tetto della macchina come vedete anche se ci sono altre fonti luminose quindi ovviamente non ha lo stesso effetto che avrebbe a buio pesto però possiamo utilizzarla per trovare di nuovo un punto magari punto dove siamo partiti e quindi tornando indietro sappiamo dove è la nostra base lasciando la torcia con la luminosità più bassa che dura 39 giorni abbiamo possibilità di trovarla facilmente e quindi raggiungere di nuovo la destinazione che ci interessa e così possiamo vedere i dettagli come ho fatto vedere l'interno nel caso in cui dobbiamo guardare qualcosa vicino utilizzando poca luce dobbiamo leggere qualcosa riusciamo a farla con la modalità più bassa altrimenti non riusciremo a vedere e allora ragazzi ma dove siete non mi vedo eccovi non riuscivo più a vedervi quindi la torcia frontale della true night modello trower che ci permette di illuminare bene adesso abbiamo la modalità turbo quindi in questo modo è riuscito a capire ancora meglio come puntando per esempio verso un tetto riusciamo a diffondere la luce in modo morge omogeneo illuminare tutto l'ambiente una torcia che può servire che bisogno di lavorare con le mani libere se si tratta di lavori manuali all'interno di un'officina di un laboratorio in casa se stiamo cercando qualcosa eccetera ma anche per fare manutenzione oppure se va via la luce dobbiamo fare dei lavori e quindi dobbiamo avere le mani libere siamo a buio perché manca la corrente in casa con la torcia frontale riusciamo a puntare dove abbiamo bisogno e riusciamo a lavorare tranquillamente ma ovviamente si presta benissimo è proprio studiata in modo tattico essendo una torcia frontale tattica per essere utilizzata all'aperto in campeggio in escursioni e tutte quelle situazioni dove effettivamente bagnandosi o cadendo non deve danneggiarsi quindi vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione spero che questo video vi sia piaciuto che la torcia l'abbiate trovata utile non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al canale mettere mi piace qua giù cliccare sulla campanella per attivare notifica e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto e voi pensavate che io non avrei fatto questo tipo di ripresa sbagliavate